Buongiorno Alessandro, finalmente sei tornato sulle strade italiane, come sono le gambe e come sono le tue condizioni? Sono felice ovviamente di essere qua a Tirreno, la stagione è iniziata un po' più tardi del solito, fino alla mia prima vera gara è stata la Igueglia, quindi questa è la prima vera gara a tappe, ma le cose stanno andando avanti bene, piano e siamo fiduciosi per il resto della primavera. C'è una carta da giocare, oggi forse con questo arrivo un po' strano, con queste lunghe pedenze, bigliette? Ma vedremo, diciamo che la nostra carta principale sicuramente è Caleb, quindi ci concentreremo su di lui, poi vediamo come va, in questi due giorni l'inizio è sempre stato molto tranquillo, magari oggi succede un po' più di caos, quindi faremo in modo di essere pronti. Tu devi aiutarlo perché c'è soprattutto una sanità che va molto alta oggi. Sì, però è anche molto distante dal traguardo, quindi teoricamente nessuno avrà grandi intenzioni, poi magari verrò smentito, ma ci aspettiamo che vada così. Grazie Alessandro Bocalluto. A voi, crepi. Grazie. Grazie.